Sul continente europeo prevale un robusto campo di alta pressione. Un minimo depressionario in quota insiste sulle regioni meridionali italiane, determinando condizioni di stabilità. In Toscana, giovedì 23 giugno, sereno poco nuvoloso, con modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana tra Senese e Grossetano, venti di brezza lungo la costa fino a moderati nel pomeriggio, deboli sulle zone interne. Mari poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio sulle zone meridionali. Temperature in ulteriore lieve aumento, con punte di 33-34 gradi nell'interno. Anche sul territorio provinciale cielo sereno poco nuvoloso, allucche sulla piana, temperatura minima 16, massima 33 gradi. In Versilie sul litorale minima 19, massima 27. In Garfagnane zone montane minima 15, massima 32 gradi. Venerdì situazione stazionaria e temperature in ulteriore lieve aumento.